Elon Musk, un genio o un folle visionario, di recente si è dichiarato imperatore di Marte e vorrebbe mandarci una persona entro il 2024 e il suo obiettivo finale è quello di riuscire a costruire una città autosufficiente entro il 2050. Secondo The Sun, il progetto spaziale di Musk ha recentemente completato il suo secondo test per il prototipo di razzo denominato Starship. L'obiettivo è utilizzare questo razzo per portare gli astronauti sulla Luna, su Marte e anche oltre. Ma Elon Musk non è l'unico ad avere questo progetto. Le immagini che state guardando fanno parte di un progetto incredibile fantascientifico e cioè la realizzazione di una città sostenibile su Marte. Avete capito bene. Il team di architetti che ha presentato questo incredibile progetto fa parte dell'Abibo Studio ed è avvenuto durante la ventitreesima convention annuale internazionale organizzata dalla Mars Society e si è tenuta nell'ottobre del 2020. Il progetto dell'Abibo Studio denominato Nuwa si è classificato finalista insieme ad altri 9 tra i 175 presentati da tutto il mondo. Il nome esotico Nuwa non è casuale, infatti secondo la mitologia cinese. Nuwa è la divinità creatrice e protettrice degli esseri umani e degli animali. Questo progetto prevede la costruzione di 5 città autosufficienti a misura d'uomo, la cui capitale sarebbe proprio Nuwa. Certo, come si può ben immaginare, i problemi non sono pochi. A causa della bassa pressione presente sul pianeta, gli edifici infatti non potranno essere costruiti come sulla terra e si svilupperanno prevalentemente in orizzontale e saranno costituiti da elementi tubolari e modulari che si assembleranno sul posto. Le strutture saranno disposte lungo il pendio di una delle scogliere del pianeta inserite nella roccia in modo da essere protetti da possibili piogge meteoritiche. Una delle località selezionate potrebbe essere tempo emensa nella parte centro settentrionale di Marte. Inoltre, poiché radiazioni solari e gamma non consentiranno l'esposizione diretta con il cielo, i collegamenti avverranno tramite una rete di gallerie e di ascensori ad alta velocità. Nel progetto verranno inclusi grandi spazi verdi destinati alla coltivazione e all'allevamento di animali. Un problema non da poco è che la CO2 dovrà essere convertita in ossigeno e le acque trattate per diventare potabili. Pensate che è stata studiata anche la vita nel dettaglio dei futuri abitanti di Marte, i quali potranno spostarsi da una città all'altra grazie a veicoli elettrici, pressurizzati, treni leggeri, autobus e si potranno frequentare spazi artistici, aree verdi e giardini urbani. Sono stati già analizzati modelli economici, forme di governo e sistemi educativi da portare sul pianeta rosso. Questo progetto è ovviamente in collaborazione con i più grandi esperti nei più svariati ambiti, dall'architettura all'astrofisica, dall'ingegneria spaziale alla chimica eccetera eccetera. Ogni città, vi ho detto 5 in totale, ospiterà tra 200.000 e 250.000 persone, per un totale di un milione di abitanti. L'obiettivo è quello di cercare una soluzione che possa fornire cibo, energia, materiali, trasporti anche a considerevole distanza dalla terra. Secondo i più ottimisti i lavori potrebbero partire nel 2054 e concludersi entro il 2100. La corsa a Marta è iniziata da circa 60 anni e oggi stiamo assistendo a una straordinaria accelerazione e tutto questo ci lascia immaginare che la colonizzazione di questo pianeta forse non è più un'utopia.